Siamo qui nell'aeroporto di Malaga e sono qui per raccontarti qualcosa che stiamo iniziando a fare nel gruppo. Questa sera inizieremo con la prima diretta esclusiva per le persone che fanno parte del gruppo relativa ad un lavoro connesso ai sogni, ai sogni non quelli che fai di notte mentre dormi, ma quelli che sono del tuo cuore, i sogni della tua anima, quei sogni che magari hai chiuso nel cassetto, affinché le persone che decidono di far parte di questo percorso possano liberarsi da tutte quelle paure, da tutte quelle resistenze nel realizzarli. Ti piacerebbe far parte di questo lavoro? Bene, sai come fare. Se te lo senti, come ti ho già detto, chiedi di entrare nel gruppo, ma solo se te lo senti, perché è qualcosa che deve venire da dentro, altrimenti non ti troverai bene. Se viene da dentro sarà il luogo perfetto per te, la tua casa, la tua nuova casa. Ciao!